Negli ospedali si vedono scene che nemmeno gli sceneggiatori dei migliori film potrebbero immaginare. Quando questo adolescente è entrato in un ospedale con una scatola di scarpe, l'infermiera che lo ha accolto ha capito subito che qualcosa non andava. Quando ha preso in mano la scatola per aprirla, è rimasta sconvolta e ha allertato subito i colleghi. Sara e sua figlia Ginny, di 14 anni, avevano un rapporto invidiabile. Sebbene fosse una madre single costritta a destreggiarsi tra i turni di lavoro in ospedale come infermiera, Sara aveva assunto con responsabilità ed efficienza il doppio ruolo di madre e padre nella vita di sua figlia. Insieme si divertivano, si raccontavano segreti e svolgevano ogni tipo di attività di coppia, tranne quando ricevevano visite dalle vecchie amiche di Sara. In quei periodi Ginny se ne stava spesso in camera sua, mentre la mamma chiacchierava con le amiche. È stato in una di queste occasioni, durante la visita di una certa Anne, che Ginny ha vissuto un'esperienza che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. Quella sera, la 14enne, era andata a letto presto. Anne era incinta e faticava ad addormentarsi, quindi era rimasta al piano di sotto con Sara. All'improvviso Ginny è stata svegliata da un gemito di dolore. Spaventata, la ragazza è corso in cucina per capire cosa stesse succedendo. La scena che si è trovata davanti le ha fatto gelare il sangue nelle vene. Anne era accovacciata sul pavimento del salotto e sua madre incinocchiata alle sue spalle. Per terra c'era una pozza di sangue e fluidi imprecisati. Anne stava ammogugnando per il dolore ed è solo in quel momento che Ginny si è accorta che sua madre stava cercando di far nascere la sua bambina, che aveva deciso di arrivare prima del previsto. La ragazza era confusa e spaventata e non aveva il coraggio di avvicinarsi alle due donne. Mentre la futura mamma spingeva, Ginny l'ha aiutata a regolare la respirazione e l'ha sostenuta nei momenti più dolorosi. Mentre le tre donne lavoravano insieme per mettere al mondo la piccola, Ginny si è sentita molto fortunata per quell'opportunità di assistere ad un evento così magico. E senza neanche accorgersene, ha cominciato a piangere di gioia. Finalmente, dopo quella che è sembrata un'eternità, Sarah ha fatto nascere la bambina e il salotto si è riempito del suo tenero piagnucolio. Quell'esperienza l'ha spinta a diventare un'infermiera come sua madre e, anche se in quel momento non poteva saperlo, a fare la differenza nella vita di un altro bambino che sarebbe un giorno capitato sul suo cammino. Quindici anni dopo, Ginny lavorava come infermiera neonatale nell'ospedale di Rockford, Illinois. Una sera stava sbrigando le ultime pratiche relative al suo turno, quando ho visto un adolescente con una felpa scura entrare in ospedale, con una scatola di scarpe tra le mani. Il ragazzo era in lacrime e Ginny gli si è avvicinata subito per rassicurarlo. «Tesoro, cosa c'è in quella scatola?» gli ha chiesto in tono leggero, cercando di farlo sentire a suo agio. L'adolescente si è limitato ad affidare la scatola. Quando l'ha aperta, Ginny è rimasta pietrificata. All'interno c'era un neonato minuscolo avvolto in uno strofinaccio. «Non sapevo che altro fare», ha confessato il ragazzo. Ginny gli ha assicurato che sarebbe tornata subito ed è corsa nel reparto di terapia intensiva con il bambino. Dalle stime dei medici, il neonato era venuto al mondo con sei settimane di anticipo sul termine e aveva trascorso le sue prime ore di vita senza il nutrimento o il calore necessario ad un bambino prematuro. La maggior parte dei neonati prematuri non ha i polmoni sufficientemente sviluppati per respirare in autonomia e richiede l'ausilio immediato di un ventilatore. Ginny temeva che per il piccolo fosse troppo tardi, ma lui ha dimostrato di essere un guerriero. Soddisfatti dalle sue prime reazioni, i dottori hanno agito in fretta per aiutarlo a riprendersi dall'ipotermia, la disidratazione e le piccole infezioni che aveva contratto in poche ore. Per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate rapidamente. «Sei stata fantastica, una vera eroina», ha detto un dottore a Ginny. L'infermiera era soddisfatta del suo operato, ma i suoi compiti non erano ancora terminati. In sala d'aspetto, infatti, c'era ancora una persona che aveva bisogno del suo supporto, l'adolescente che aveva portato il neonato in ospedale. Il ragazzo stava piangendo in un angolo della sala quando Ginny si è avvicinata. «Come sta? Ce la farà?», le ha chiesto tremando da capo a piedi. «Adesso sta molto meglio», gli ha risposto lei. L'adolescente ha tirato un sospiro di sollievo, le ha stretto la mano e l'ha ringraziata ripetutamente prima di raccontarle tutta la sua storia. Dopo averlo ascoltato, Ginny gli ha spiegato che era arrivato il momento di prendere una decisione importante. «Se adesso te ne vai, perderai i tuoi diritti come padre e non potrai ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute. Pensaci molto attentamente, non prendere una decisione affrettata che potresti rimpiangere». Il ragazzo però aveva già le idee chiare e le ha assicurato di voler restare nella vita del figlio. Ginny gli ha stretto un braccialetto al polso che lo identificava come padre del neonato e gli ha promesso che sarebbe andato tutto bene. Quando lo ha rivisto, il giorno dopo, il ragazzo era insieme alla fidanzatina, che si guardava attorno con aria spaventata. «Ciao, io mi chiamo Ginny. Immagino che tu sia la mamma di quel bambino stupendo. So che adesso sei spaventata, ma devi essere forte per lui», le ha detto l'infermiera. Le sue parole hanno rassicurato la ragazza, che si è lasciata prendere la mano e condurre fino al reparto di terapia intensiva neonatale, dove era il suo bambino. L'adolescente si chiamava Cherish Coates e ha trovato subito in Ginny una persona in cui confidarsi. ha ammesso di aver nascosto la gravidanza alla nonna con la quale viveva, perché tutti si aspettavano da lei una carriera da studentessa modello. Sua madre l'aveva avuta a 15 anni e la nonna non voleva che lei seguisse la stessa strada. Il suo pancione non si era gonfiato molto, quindi era riuscita ad andare a scuola senza farsi beccare dalle compagni o dalle insegnanti. Tuttavia, il giorno prima, mentre si spostava da una classe all'altra, aveva avvertito dei forti crampi alla pancia ed era tornata a casa prima. Quella sera era nella vasca da bagno quando le si erano rotte le acque. Cherish era corso in camera sua e aveva partorito senza alcun aiuto. A quel punto non mi importava più di quello che avrebbe detto la gente. Mi sono sentita felice di aver proseguito la gravidanza. Allo stesso tempo, però, ho avuto molta paura. Volevo tenerli in braccio per sempre, ma temevo che gli avrei fatto del male perché era così piccolo, ha spiegato la ragazza. Dopo il parto aveva chiamato il fidanzato, che si era precipitato a casa sua e si era incaricato di portare il bambino in ospedale. Nessuno dei due sapeva quello che sarebbe successo dopo, ma per fortuna l'infermiera Ginny era accorsa in loro aiuto. Nei giorni seguenti, Ginny ha tenuto aggiornata la coppia ed è stata di grande aiuto per Cherish, ancora sconvolta e traumatizzata dagli avvenimenti. L'infermiera è riuscita a convincerla a raccontare la verità alla mamma e alla nonna ed è rimasta accanto a lei durante l'incontro. Proprio come Ginny aveva previsto, quando le due donne hanno scoperto quello che era successo, si sono strette affettosamente intorno alla neomamma e le hanno promesso che l'avrebbero aiutata a crescere il bambino. Cherish ha continuato a frequentare le scuole superiori e si è iscritta anche all'università, dove ha conseguito una laurea in legge con specializzazione nel settore delle malattie mentali. Anni dopo, la ragazza, ormai 29enne, ha trovato l'infermiera su Facebook e le ha scritto un tenero messaggio di ringraziamento. Entrambe sono state contente di riallacciare i rapporti e si sono aggiornate sulle loro vite. Il bambino che è salvata oggi ha 12 anni e frequenta le scuole medie. Dopo di lui ho avuto altri due figli. Non ho mai dimenticato il tuo aiuto, nemmeno per un momento, ha detto Cherish. Ginny le ha risposto che anche lei aveva portato nel cuore il giorno del loro incontro per tutta la vita. Che cosa pensate della storia di Ginny? Ditecelo nei commenti.